Sì, questo era uno dei ponti che erano stati individuati a seguito dell'alluvione del 2019 e tra quelli da demolire. È stato demolito ieri, quindi da oggi chi abita dalla parte di qua, di Val di Colle o Montoncello dovrà fare un giro differente cambiando le abitudini quotidiane. Siamo al Bagnoro, frazione del comune di Arezzo. Il ponte in questione è stato demolito dopo una ricognizione dovuta all'alluvione del 2019 ritenuto dunque pericoloso, appunto in caso di piogge abbondanti. Speriamo possa essere ricostruita almeno una passerella ciclopedonale cosa che abbiamo richiesto nell'ultimo Consiglio Comunale all'assessore Casi che si impegnasse a trovare i fondi per la realizzazione di questa nuova opera per rimettere in collegamento questi abitanti sia al paese che a tutte le attività commerciali. Un aspetto fondamentale è che con la demolizione di questo ponte gli abitanti di questa zona per raggiungere la prima fermata degli autobus dovranno percorrere più di un chilometro a piedi e invece prima con il ponte raggiungevano a poco più di 100 metri la fermata degli autobus. Chiaramente è un disagio grande che però stiamo seguendo e che speriamo che possa essere realizzata almeno questa passerella ciclopedonale. Adesso il problema è diventata la viabilità in questo caso che diventa obbligata per tutti coloro che risiedono in questa zona. 200 metri di strada è talmente stretta che non ci si scambia con le auto quindi l'hanno asfaltata e l'hanno fatto bene perché era ridotta in condizioni miserabili però hanno fatto un asfalto stretto quindi devono comunque fare almeno un paio di piazzoli di scambio in modo tale che le macchine si possono scambiare se arriva un'ambulanza, se arriva quelli dell'Enel o del gas o due macchine non ci si scambiano lì. E mentre le nostre telecamere sono sul posto arriva anche una comitiva che sta effettuando una camminata anche loro sono sorpresi dalla demolizione del ponte. Ma non si può attraversare? Non si può attraversare, ho visto ieri. Ma c'era un ponte qua una volta? C'era, c'era. Fino a ieri? E oggi? Che fine ha fatto il ponte? È cascato? Oltre a questo i residenti vorrebbero salvare questa quercia secolare che dovrebbe essere abbattuta secondo lo studio idraulico. Oggi noi siamo qui per protestare contro l'eventuale abbattimento di questa quercia secolare che è un monumento vegetale e basta fare una piccola deviazione nei piani di allargamento dell'argine del nuovo vingone e viene salvata. Quindi perché fare la cosa sempre più semplice? Tirare una linea dritta su una carta geografica e dire si passa di qui. Si può fare altrimenti.